Ancora benvenuti al videogiornale di Teleacras, ad Agrigento quindi presentata in conferenza al Palazzo Vescovile la beatificazione di Rosario Livatino. La cerimonia è in diretta su Rai 1 domenica prossima alle ore 10. Il particolare? È una luce che si ascende su Agrigento in un momento difficile, quello che stiamo vivendo. Covid, paure, malati, sofferenza, gente che non sa più guardare al futuro, spaventati, ci guardiamo l'uno dagli altri. E questo momento diventa importante perché è come se il Signore volesse che si accendesse una luce. Quando c'è il buio in una stanza abbiamo paura di muoverci. Allora ci accontentiamo anche di una candela pur di andare avanti. La Chiesa nella sua maternità decide che una luce sia accesa in un momento particolare perché ognuno di noi riprenda respiro e guardando il giudice Livatino possa riprendere il suo cammino e fare la sua parte. Però non è una luce accesa solo su Agrigento, sarebbe triste e mortificante il pensare che un santo agrigentino è un santo nato nella terra agrigentina ma come beato ormai appartiene a tutta la Chiesa. Quindi è una luce che illumina tutta la Chiesa. In una terra come questa non possiamo chiudere gli occhi. Una Chiesa deve prendere posizione nel senso che non deve lottare contro nessuno perché il Vangelo non parla di lotta ma di amore ma in una Chiesa in una situazione di questa deve continuare ad annunciare il Vangelo con coraggio con cui l'ha fatto Livatino per poter dimostrare che chi sa vivere il Vangelo sa anche vivere come cittadino. Io penso che è vero che i Santi ci interrogano però anche i Santi ci aiutano perché il loro esempio secondo me è straordinario in quanto spinge altri all'imitazione. Io ne sono certo di questo. Essere all'altezza significa essere una Chiesa coraggiosa che non abbia paura né essere intimorita dalle minacce della mafia ma nello stesso tempo una Chiesa coerente per quanto riguarda l'amministrazione stessa della giustizia. Cioè è la Chiesa che innanzitutto deve dare esempio di giustizia. Ecco allora sì che si raccoglie profondamente l'eredità. E poi l'altro aspetto è quello educativo. È stato bello la presentazione di quel libretto come sussidio nelle scuole per presentare Livatino perché bisogna dalle nuove generazioni cominciare a creare una nuova cultura. Una cultura che faccia da contrasto proprio allo stile mafioso. E io penso che da questo punto di vista l'altro martire, Pino Puglisi, ci può dare veramente un grande aiuto. Non so se avete letto qualche volta il Padre Nostro scritto da Pino Puglisi proprio come preghiera contraria, diciamo, dettata dalla mafia. E poi la presa di posizione nel senso che esigere la coerenza della fede anche nell'amministrazione dei sacramenti, anche nel fare da padrini. Per esempio molti dei mafiosi oggi in qualche modo vengono rifiutati come padrini per quanto riguarda la cresima e anche il battesimo dei bambini. Questo secondo me è presa di posizione, questo è coraggio. Penso che queste esperienze siano veramente un programma per il futuro per le nostre Chiese. Per essere all'altezza proprio della vita, del coraggio e della vita di questi nostri martiri.